Buongiorno a tutti, volevo fare questa diretta per, diciamo, raccontarvi per chi non fosse ancora, per chi non avesse ancora recepito, comunque per chi non avesse ancora preso in considerazione la visione del mio canale di YouTube e per chi fosse interessato, volevo proporre il mio canale che parla comunque di filosofia e di cinema e spettacolo. Mi presento innanzitutto, sono Alessandro Picciao, ho questa pagina su Instagram dove pubblico tantissime cose, viaggi, e mi occupo anche di cinema e spettacolo, appunto, e filosofia. A breve, volevo darvi questa notizia, a breve probabilmente dividerò le pagine di Instagram, molto probabilmente, farò una pagina dedicata completamente alle attività, diciamo, prettamente social e personali, e invece l'altra pagina di Instagram sarà più sulle pubblicità di YouTube e del mio canale delle dirette, ma sicuramente a breve metterò un link. Mi occupo di, ho la passione più che occuparmi di cinema, spettacolo e filosofia, e richiamo domani al fatto che farò nella rubrica, dicevo, richiamerò il fatto che domani nella mia rubrica cinema e spettacolo presenterò il film di Tim Burton dedicato ad Edward, scusate, a Edward Manu di Forbici. Spero che siate presenti in tanti, e ripeto, per chi è interessato, c'è anche il mio canale su YouTube, perché successivamente al fatto che farò la diretta qui su Instagram, pubblicherò il video su YouTube. Ho tanti progetti in corso per quanto riguarda sia il canale delle dirette che il canale di YouTube, spero che comunque queste idee in generale piacciano, a me stanno stimolando tantissimo, e mi stanno anche, diciamo, motivando comunque molto a vedere, diciamo, il palinsesto, la proposizione anche del canale. Vedete anche dietro di me, alle mie spalle, comunque sto cercando anche ambientazioni che stimolino, diciamo, l'utente a seguirmi, e sto mettendo in gioco anche sicuramente la creazione di un ambiente che sia un po' più, diciamo, non esageratamente formale, e quindi probabilmente proporrò dietro anche qualche, diciamo, pannello, qualche cosa classica di registrazioni. Ripeto, io sono comunque un grandissimo appassionato di cinema, sto maturando comunque una certa esperienza, anche la lettura, grazie alla lettura dei libri, e molto probabilmente prossimamente farò dei corsi, anche propedeutici alla discussione e all'ambiente del cinema, alla cultura cinematografica, e in questo caso comunque voglio proporre delle cose maggiormente libere e più di discussione, infatti invito tutti quanti, se avete dei libri, dei film da propormi, sia di cercarmi attraverso i commenti, ma anche online nelle chat, e qualunque commento, qualunque considerazione sarà utile. Vi ringrazio, e ovviamente cercherò di migliorare il più possibile, perché comunque è una grandissima passione, sia per i social, ma anche per gli ambienti della quale discuto, e vi ringrazio tutti quanti, e vi richiamo alla diretta di domani, martedì 9 luglio, alla mia diretta della rubrica Cinema e Spettacolo, vi ringrazio e ci vediamo domani.